buongiorno a voi eccoci qui con il secondo video proviamo in orizzontale forse è più bello le corone tre modi per suonare le corone qui vediamo l'esempio la corona come vedete è sul tempo 3 il tempo del brano è quattro quarti allora primo modo si taglia il suono ci si ferma e poi si riparte 1 2 3 chiudo 4 1 2 3 e 4 secondo modo si chiude il suono si taglia il suono sempre sul tre naturalmente del nostro esempio e appena tagliamo il suono immediatamente c'è il respiro per suonare la nota seguente quindi c'è chiusura del suono ma senza sospensione 1 2 3 4 1 2 3 e 4 terzo modo non si taglia il suono si tiene la nota lunga fino a quando direttore mostra e poi si continua a suonare il 4 senza interruzione di suono quindi non ci sarà il movimento di chiusura 1 2 3 4 1 2 3 4 senza interruzione